Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary si parla di libri. Siamo finalmente tornati in zona gialla, ma ahimè si tratta della zona gialla più grigia, triste e uggiosa dell'universo. Infatti io avrei tanto bisogno di primavera, profumo di fiori, giornate di sole, ma in realtà nulla di tutto ciò. In ogni caso, torniamo a parlare di libri e torniamo a parlare di premio strega. Oggi infatti vi racconto le mie impressioni a proposito di adorazione di Alice Urciuolo. Si tratta ormai della terza video recensione a tema premio strega che esce sul canale, quindi se vi siete persi le prime due vi lascio la playlist premio strega linkata qui sotto nell'infobox. Sempre nell'infobox trovate anche i link ai miei social e al mio blog e se vi va di sostenere il canale perché i miei contenuti vi interessano o comunque stuzzicano la vostra curiosità, basta cliccare sul pulsante iscriviti e attivare la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. Ma bando alle ciance, entriamo nel vivo della nostra video recensione e parliamo di adorazione. Sarò sincera, questo era uno dei candidati al premio strega di quest'anno che mi attirava meno, mi interessava meno. Sarà che la tematica di fondo non è così originale. Adorazione è infatti il racconto di un'estate, un'estate nell'arco della quale i protagonisti che sono tutti giovani e adolescenti crescono, maturano, evolvono. In realtà però l'autrice ha declinato in tema in modo molto fresco, coinvolgente e di conseguenza mi sono dovuta ricredere perché adorazione mi è piaciuto non poco. La storia è ambientata a Pontinia, un piccolo paese nei dintorni di Latina e i protagonisti, come vi dicevo prima, sono tutti giovani e adolescenti di età compresa tra i 16, 17 e i 20, 21 anni. Sono tutti amici, quindi legati da rapporti di amicizia o comunque legati da rapporti di parentela. Alcuni dei ragazzi infatti sono fratelli, cugini. Il paese è molto piccolo, il paese in cui vivono è molto piccolo e quindi si conoscono tutti fra loro e anche le famiglie si conoscono tutte fra loro. Questi giovani sono, dicevo appunto, legati da rapporti di amicizia o di parentela, ma sono anche legati dal fatto di aver vissuto un lutto, un lutto importante. Un anno prima dei fatti raccontati è morta Elena, una ragazza che faceva parte del gruppo e che quindi tutti conoscevano e a cui erano più o meno strettamente legati. La ragazza è morta in circostanze tragiche, quindi a distanza di un anno i ragazzi hanno dovuto a loro modo rielaborare il lutto ovviamente ciascuno in modo diverso. Dicevo, i protagonisti della storia sono appunto questi ragazzi adolescenti che formano questo gruppo di amici e di volta in volta l'autrice si focalizza su un personaggio diverso lasciandoci intravedere i suoi pensieri, i suoi strati d'animo. Certo, i suoi stati d'animo, di conseguenza c'è una focalizzazione multipla, quindi non c'è un unico punto di vista, ma i punti di vista sono molteplici. I personaggi attorno a cui ruota la vicenda sono principalmente quattro, Diana, Vera, Giorgio e Vanessa. Diana è la classica ragazza intelligente, studiosa, ma allo stesso tempo timida, insicura, non è molto popolare tra i ragazzi, anzi è la classica secchiona. È però molto determinata e decisa perché ha già deciso che da grande vorrà fare il medico e infatti utilizza tutti i suoi risparmi per acquistare libri di medicina, per poterle studiare e prepararsi al test da missione all'università nonostante frequenti soltanto la terza liceo. Quindi una ragazza molto intelligente, studiosa, determinata, ma allo stesso tempo insicura e timida. Insicura e timida anche perché è ossessionata dal fatto di avere una grande voglia sulla gamba. Questa per lei è una vera e propria ossessione, nel senso che tenta in tutti i modi di nasconderla, quindi indossa sempre i pantaloni o comunque delle gonne lunghe. Quando va in spiaggia con gli amici indossa sempre un parè, una gonna, non si mostra mai in costume davanti agli altri e il suo pensiero fisso è poter fare un intervento chirurgico per poter togliere la voglia. E la presenza appunto di questa voglia le impedisce di vivere spontaneamente il rapporto con i suoi amici. Vera nel corso di quest'estate farà un percorso di crescita perché imparerà innanzitutto ad accettarsi per come è e a cogliere il valore della propria unicità. E poi imparerà anche a ridimensionare diciamo l'importanza di certi dettagli dell'aspetto fisico e imparerà a vivere diciamo i rapporti d'amicizia e anche i rapporti con il sesso opposto in maniera più spontanea e spensierata. C'è poi Vera che è la migliore amica di Diana, lei è invece una ragazza simpatica, bella, la classica ragazza che piace a tutti e che sta simpatica a tutti e che sembra estremamente sicura di sé e padrona del proprio destino e della propria esistenza. In realtà nel corso della storia scoprirà di avere anche un lato fragile e di essere bisognosa d'amore, bisognosa d'affetto e questo bisogno la indurrà a credere alle illusorie promesse di un ragazzo che dice di amarla, dice di volerle bene ma non lo riesce a fare, non riesce a farlo fino in fondo. Vi è poi Giorgio che è il fratello di Vera, Giorgio è uno dei personaggi secondo me più riusciti all'interno del romanzo perché è un personaggio estremamente complesso e quindi molto realistico. Per certi versi è già un piccolo uomo nel senso che è già adulto e già maturo ma ha anche un lato molto istintivo che lo spinge ad agire senza pensare, che lo spinge ad agire senza pensare alle conseguenze che le sue azioni possono avere sugli altri. E di conseguenza nel corso di questa estate dovrà imparare a crescere e dovrà imparare a rapportarsi con gli altri in maniera decisamente più matura. E poi c'è Vanessa che è la classica ragazza bella e di buona famiglia che è da sempre fidanzata a Gianmarco. I due si sono messi insieme quando lei aveva 13-14 anni, ora lei ne ha 17 e la loro storia sembra una favola. Lui la tratta come una principessa e tutti danno per scontato che un giorno i due si sposeranno, complice anche il fatto che il ragazzo proviene da una famiglia molto ricca e benestante e di conseguenza la famiglia di Vanessa sarebbe molto contenta effettivamente se i due concretizzassero quest'unione. In realtà però Vanessa nel corso di questa estate scopre di avere bisogno d'altro. Innanzitutto è stanca di essere trattata come una principessa, come un oggetto fragile di porcellana, ma vuole diventare una donna indipendente e autonoma soprattutto. E poi è stanca di questo rapporto che di fatto la soffoca perché Gianmarco, il suo ragazzo, di fatto la contenta in tutto e per tutto, la coccola e la vizia in tutto e per tutto, ma con l'obiettivo di tenere sotto controllo, di sopire il suo lato battagliero, il suo lato oscuro. In questo romanzo quindi troviamo tutte le dinamiche tipiche del mondo degli adolescenti, ma sullo sfondo però compare anche il mondo degli adulti. Spesso nei romanzi dove i protagonisti sono gli adolescenti e gli adulti sono completamente assenti o comunque svolgono un ruolo pessimo, fanno una figura pessima. Mentre in questo romanzo, sebbene ci si focalizzi principalmente sul mondo dei giovani e degli adolescenti, in realtà il mondo degli adulti si intravede sullo sfondo e i genitori e gli adulti vengono presentati come persone che hanno chiaramente i loro pregi e i loro difetti e che tentano in tutti i modi di capire i figli e di comunicare con i figli. Spesso non ci riescono perché tra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi è come se ci fosse un muro, una muraglia, una muraglia invalicabile. I genitori spesso soffrono per questo e cercano di entrare in contatto con i figli, di capirli e di farsi capire e questo è un aspetto molto bello. Lo stile del romanzo è estremamente semplice, estremamente spontaneo e di conseguenza Adorazione secondo me è un libro che potrebbe essere proposto, può essere proposto sia ad un pubblico giovane come ad un pubblico adulto. Dico che si tratta di un libro che potrebbe piacere anche ai ragazzi perché ovviamente i protagonisti sono adolescenti e al suo interno troviamo tutte appunto quelle dinamiche tipiche dell'adolescenza, quindi i rapporti d'amicizia, i primi batticuori, i primi amori, la scoperta della sessualità, ma soprattutto questa storia è ambientata al giorno d'oggi quindi i protagonisti sono gli adolescenti di oggi, sono quindi i ragazzi che comunicano tramite messaggini Whatsapp, che controllano l'ultimo accesso del ragazzo che piace per vedere se ha visualizzato o meno il messaggio, sono ragazzi che hanno Instagram, che usano Instagram e di conseguenza tutto ruota magari attorno alla foto pubblicata, ai like ricevuti, ai commenti ricevuti, alle condivisioni, sono ragazzi che si spiano attraverso le storie appunto su Instagram, di conseguenza l'autrice parla un linguaggio che è quello dei giovani d'oggi. E poi come dicevo prima è bello vedere in una storia di adolescenza la presenza dei genitori che appunto cercano di rapportarsi ai figli, e che cercano di comunicare con i figli. Ma allo stesso tempo Adorazione è anche un romanzo che sa coinvolgere il pubblico adulto perché innanzitutto può aiutare l'adulto a capire il mondo degli adolescenti e a capire come gli adolescenti utilizzano i social network, come si rapportano gli uni con gli altri. Ma nonostante appunto i protagonisti siano gli adolescenti di oggi, in realtà i sentimenti, le emozioni, le dinamiche che compaiono sulla scena, che compaiono tra le pagine, in realtà sono gli stessi di sempre, sono universali e di conseguenza chiunque si può riconoscere in questi personaggi, chiunque ha vissuto esperienze simili a quelle dei personaggi. E proprio a proposito dei personaggi, l'universo che l'autrice crea è molto vario, nel senso che penso che chiunque possa trovare all'interno di questo gruppo di amici un personaggio in cui identificarsi, perché sono rappresentate più o meno tutte le tipologie di adolescenti, quindi la ragazza appunto bella e popolare, ma allo stesso tempo insicura, la classica secchiona timida, introversa, ma allo stesso tempo sicura di sé, il ragazzo spocchioso, bulletto, ma che in realtà cela sentimenti contrastanti, la ragazza fidanzatina da sempre che a un certo punto cerca di rompere le briglie di questo rapporto soffocante, insomma, secondo me chiunque può trovare un personaggio all'interno del romanzo con cui identificarsi e in cui riconoscere il proprio sé adolescente. Certo non sto dicendo che adorazione è un capolavoro letterario, tanto che non credo possa finire in cinquina, non credo che finirà in cinquina, è comunque un libro fresco, frizzante, coinvolgente e che vi consiglio di leggere se avete voglia appunto di una lettura emozionante che vi faccia tornare adolescenti anche solo per un po'. Bene ragazzi il video di oggi finisce qui, se siete arrivati fino alla fine mi raccomando lasciate un pollice in su e ovviamente scrivete nei commenti che cosa ne pensate se anche voi avete già letto Adorazione o qualsiasi altro dei candidati allo strega di quest'anno. Io come sempre vi mando un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!